I finanzieri di Messina hanno eseguito due ordinanze di custodia cautelare emesse dal GIP del Tribunale nei confronti di 25 persone, delle quali 10 ai domiciliari con l'accusa a vario titolo di associazione a delinquere dedite in maniera sistematica e organizzata al traffico e alla gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti speciali. Disposto anche il sequestro preventivo di mezze e complesse aziendali per un valore pare a oltre 2 milioni di euro e l'esecuzione di 15 misure interdittive del divieto temporaneo ad esercitare attività imprenditoriale e di ricoprire uffici direttivi nei confronti di altrettanti titolari di ditte rappresentanti di società operanti nell'edilizia. Individuate diverse discariche abusive, tra queste una in particolare a Gravitelli a Messina, in un'area classificata nei siti a protezione speciale. Da ulteriore approfondimento è emerso che i titolari delle ditte erano legati a clan mafiosi in particolare quello dei Romeo Santa Paola. Durante le indagini è stato accertato che nonostante precedenti indagini i titolari delle ditte continuavano ad utilizzare abusivamente e indisturbati l'area di vita di scarica abusiva aggravando ulteriormente la situazione. Analizzando le immagini satellitari della zona riferibile agli anni 2011-2019 è emerso che l'area era occupata da rifiuti da diverso genere per 38.000 metri quadrati per un guadagno illecito di circa 220.000 euro. Gli accertamenti hanno poi consentito di individuare noti imprenditori edili messinesi che al fine di ridurre le spese di trasporto e smaltimento dei rifiuti da demolizione e incrementare i propri profitti sono risultati essersi rivolti con carattere di sistematicità al gruppo criminale indagato in totale spregio delle regole della salvaguardia ambientale.